eccoci qua con una nuovissima ricetta questa ricetta la dedico a una fan di Laura della cucina del cuore perché nel suo gruppo cercava una crostata o una cassata siciliana al gelo di anguria io ho fatto delle ricerche ho visto comunque che usano la pasta frolla o una base senza cottura io ho deciso di andare a prepararla senza cottura quindi abbiamo bisogno di 130 grammi di burro fuso e dei biscotti ho usato questi biscotti sono 270 grammi e del gelo di anguria questo qui l'ho fatto io quindi troverete la ricetta nell'info box io ringrazio Mao per questa idea perché grazie a lei o a lui non so sei una donna o sei un uomo e ringrazio tantissimo quindi Mao per avermi dato questa idea della crostata e spero che ti piaccia e dopo ci aiutiamo o con un cucchiaio o con un bicchiere mettiamola per 10 minuti in frigorifero in modo che lei si compatti quindi il burro ritorna solido e dopo andiamo a versarci sopra il gelo ecco qua adesso prendiamo il gelo e lo versiamo dentro poi prendiamo delle gocce di cioccolato e andiamo a ricreare i semini così lasciamo intiepidire il gelo a temperatura ambiente e dopo coppiamo con pellicola mettiamo in frigorifero la canzone i Grazie a tutti.